Ciao ragazzi benvenuti tornati siamo su Brawl Stars Altro appuntamento oggi abbiamo finalmente la skin ufficiale di San Valentino del nostro carissimo Pocho Pocho romanticone siccome ce l'ho al massimo livello e che quindi l'abilità stellare fa vita agli alleati con l'attacco base Andiamolo a giocare in Jam Grab E tra l'altro se mi siete persi ieri sera ho fatto un video in cui ho spacchettato un pacco Supercell con i peluche di Brawl Stars Vi lascio qua sopra la scheda cliccabile Ho spacchettato Pocho, Jesse e Spink che hanno messo da poco nel loro negozio ufficiale sul sito E tra l'altro avete visto che Fortnite ha posticipato l'update per un problema dell'ultimo minuto scritto ieri sera Quindi controllate Facebook e Twitter per quando avrà questo aggiornamento Spero posticipino solamente di qualche ora Ragazzi siamo in game eccoci qua Attenzione ci hanno un coltino Ok un coltino un Andrea che sta per morire Vediamo se riusciamo magari anche a dargli un po' di cura Ok facciamo così Bene sicura dietro perfetto Spingiamo via colte in questa maniera Curiamo Andrea così Ma vi faccio vedere raga una cosa che mi piace un sacco Ovvero quando mettono le skin Delle skin speciali per i brawler Una cosa molto molto bella È che vanno a cambiare anche la grafica della ulti principalmente E questa è una cosa molto bella Ad esempio adesso vi faccio vedere com'è la ulti di questo brawler Ok Con questa skin di San Valentino Che è veramente tanta roba Fatemi sapere cosa ne pensate Se magari state aspettando le altre skin in arrivo Fatemi sapere poi magari qua sotto Ok Allora ottimo Ottimo Uh No Di pochissimo era praticamente al limite del mio Del mio range Di poco di poco Di pocio Allora Quello sta per andare giù Perfetto direi no Questo va giù così Bull Non facciamo entrare dal buco questo pocio Ok Si è fatto abbastanza male Quindi va benissimo Carichiamoci la vita Non spreco ancora la ulti Preparatevi raga Adesso vi faccio vedere Com'è Il pocio che spruzza Amore Agli alleati Ok Buono questo Buono Olè Ragazzi un'ondata rosa praticamente di cuori Mi piace Mi piace A molti piaciuta tra l'altro la skin quella di Natale A molti sono piaciute le skin di Natale Quell'altra festività vi piacerebbe Vedere nel gioco Sotto forma di skin Dei brawler Mi raccomando scrivetemi anche questa cosa Ok Aglia Aglia Uhlala Meno male che c'era quel muretto Meno male Ultimamente sto droppando eh Sto droppando Non so se è colpa del nuovo matchmaking Anche se in realtà Spesso spesso mi trovo costretto a giocare Sempre in orari un po' Bruttini Con i random Curiamo intanto Andrea così Ma è da tre giorni raga Che Non riesco Diciamo a salire bene Ma Ma penso Penso di farcela Perché come vi ho spoilerato Devo assolutamente portare Spike Al Al 500 Con Il livello 1 Qui c'è Shelly Qui c'è Shelly Che va down Curiamo da normal guy Ok Push Push così Bene 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 Pushatina tattica così Ottimo Guardate come controlliamo bene il centro Attenzione la ulti La ulti fa male La ulti fa male Ok c'è la cura pronta C'è la cura pronta Nel caso Curiamo così Non si sa mai Buono questa Pam Buona questa Pam C'è la ulti intanto Shelly Attenzione Ottimo controllo del centro Di nuovo Perfetto Down Quasi Shelly Bene 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 così Ok Dividiamoci magari Dividiamoci Non come prima Oh yes Boom Spruzzata di cuori Rosa Ok Dragon ufficiale Ancora star player Signori Siamo a più 10 trofei Ottimo Ricordatevi raga Di mettere il codice Supporta creatore Con il vostro creatore preferito Se mettete dragon ufficiale Parteciperete alla donazione Alla fine dell'evento Di San Valentino Su fortnite Dragon ufficiale Per chi raga Mi vuole supportare Allora Attenzione Attenzione Colt Ancora una volta Poi abbiamo Una Tara Ok Tara è quasi down Tara è quasi down Perfetto Curiamo un po' Andrea Così Con il nostro attacco base Allontaniamoci Non so se ce la faccio Sì ce la faccio Meno male Attenzione All'attacchi di Colt Dovevo farlo fuori Forse No Di poco Di poco Di poco Ok 4 a 1 Perfetto Non troppo attaccati Curiamo un tanto Uh Oh yes Ho avuto anche un misclick Ma meno male Che ce l'ho fatta Via Via Ah nice Down Down intanto Colt Benissimo così Ole Meno male Grandi ragazzi Grandissimi Siamo a 9 a Facciamo un po' di pressione A Brock 9 a 0 ragazzi Sta 9 a 0 Sta anche per andare via Brock Ottimo Ottimo No Non serve curare Ce la fai da solo Figliolo Ce la fai da solo No scherzo Facciamo così Oh yeah Via No No Via 11 a 0 GG Bravi Bella composizione Poco Jesse E Pam Pam Non può mai mancare In gem grab Ormai Ok let's go di nuovo Ragazzi Ci sta 3 partite di fila vinte Oh no Adesso ci hanno C'hanno Ricochet Il Ricochet sarà un problema Il primo no E Colt Medio Allora Vediamo se Rico va a sinistra Dove sto andando io Quindi cerchiamo di Di fare tante pressione Così Ahia Questo mi ha fatto male Facciamo una cura così veloce Di 500 Probabilmente io Oh yes Uh Una pallina mi ha preso Una Bravo Andrea Ok l'ho curato anche io Meno male Ok forse mi resta Adesso mi sposto Se no mi prende Buono 4 a 1 Cerchiamo di riprendere Il controllo del centro Così Una cura veloce A Pam Intanto Bene Così Aia Buono Così Buono Così Ottimo Attenzione a Colt Facciamo una cosa Stoppiamo già il primo Così Curiamo anche Andrea Raga Notate come sto controllando bene Tutto quanto Uh 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 Eh no Rico Non ce la fai Rico Non ce la fai Attenzione a Colt 9 a 2 Raga Ultima gemmina Ho c'è Rico con la ulti Quindi allontaniamoci Stiamo divisi Oh Mamma mia Raga Ottimo Ottimo Davvero 10 a 0 Raga 10 a 0 15 a 0 Epico Uh Starpera Ancora una volta Dragon ufficiale Carino questo San Ballantyne Oh no Ancora Rico Questa volta c'hanno Jesse Quindi anche loro Daranno fastidio Con la torretta Vedo Hmm Ok No Non c'è Bull Rimasto su Bull Uh Ottimo Cura potente Così Oh Bello Rico già down No Già si m'ha visto Pensavo mandasse la torretta Ma va bene Bravo Andrei che pensa subito Con Pam A far fuori Uh Questa volta la ulti di Rico Ha fatto malino Vediamo se Pam Sta un attimo attento Dai facciamoli così Poi carichiamo le due munizioni Ovviamente mi fa male Jesse È bravo a mirare sta Jesse Altra torretta Vai Buttala che la facciamo subito fuori Mai fare questa cosa così Bene Curiamo Andrea di 500 Boom Cura la vita Raga quanto son bravo con i supporter Oh yes Wow Rico Bravo Bravo Lol Questo buone un po' Oh yes Yes Raga GG Ancora Quanti trofei abbiamo fatto tipo 20-25 Ultimo match per noi In stile San Valentine Allora Uh Poco anche loro Ma Poco normale contro San Valentino Non può Non può vincere Non può Due colpi Uh no Peccato 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 No No Peccato Peccato Bella quella torretta Torretta Bravo Bravo Notate come sto Continuando ad uscire Ed entrare Proprio Alla velocità della luce Ottimo Questa cura Ok Dovamo cercare di prendere le gemme Però eh Curiamo Andrea così Facciamo un cambio Facciamo fare la torretta Se no Va bene Va bene Si può fare Si può fare Bella quella torretta Va bene Va bene Dai Uh Le dura Mannaggia Dura Dura È dura ragazzi Eh no O prendiamo Jesse Oppure no Eh sono bloccato No No Niente Non si può sempre vincere Peccato 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 C'è stato un doppio controllo Tra entrambi i team Ci stava Ci stava come partita Ok ragazzi Cosa ne pensate di questo San Valentino Pocho E ditemi anche quale altro Brawler vorreste vedere Con una skin esclusiva Ok Fatemelo sapere Un gameplay molto molto normale Con questa nuova skin Appena presa Noi ci vediamo molto presto Con un video con Spike Ragazzi Non vedo l'ora Ciao ragazzi Ciao